Buongiorno ragazzi, riprendiamo il nostro studio sul sistema nervoso parlando del tronco cerebrale e del cervelletto. Ecco qui lo schema per ricapitolare ancora una volta che il nostro sistema si distingue in sistema nervoso centrale e periferico e il primo è costituito da encefalo formato da cervello di cui abbiamo parlato nella precedente lezione, dal tronco cerebrale, dal cervelletto e nella prossima lezione, se non riusciamo a farlo oggi, affronteremo invece il discorso relativamente al midollo spinale. Il midollo allungato o bulbe è quella porzione del sistema nervoso centrale compresa tra l'encefalo e il midollo spinale. Si trova davanti al cervelletto e ospita numerosi nuclei molto importanti che controllano le funzioni riflesse della faringe, della laringe e della lingua e inoltre ci sono nuclei che controllano i riflessi vitali respiratori e cardiovascolari per cui si parla di centro del respiro, centro della frequenza cardiaca, cioè della frequenza del cuore e centro vasomotorio che controlla cioè la contrazione della parete dei vasi sanguigni oltre ad altri movimenti volontari. Altro aspetto che vale davvero la pena ricordare è che proprio nel midollo allungato avviene l'incrocio delle fibre motorie che provengono dalla parte destra del cervello con le fibre motorie che provengono dalla parte sinistra che si incrociano proprio a questo livello a livello di midollo allungato e riusciamo a capire quindi solo adesso il perché la parte destra della nostra corteccia cerebrale controlla la parte sinistra del corpo e viceversa per cui in caso di ictus che colpisca la parte destra si possono perdere delle capacità nella parte sinistra del nostro corpo proprio grazie al fatto che qui a questo livello avviene l'incrocio delle fibre. Ed ecco l'immagine suggestiva del cervelletto la cui parola significa piccolo cervello quasi a sottolineare come la sua funzione sia di minore importanza rispetto a quello del cervello stesso. Vedremo poi che le ultime ricerche dimostrano quasi il contrario. Innanzitutto perché piccolo cervello? Perché ha la stessa identica struttura del cervello posto in modo sovrastante. Anche il cervelletto infatti è diviso in due emisferi, l'emisfero destro e sinistra e anche in esso vi è la parte, la sostanza grigia all'esterno e la sostanza bianca all'interno. Le funzioni conosciute da tempo sono quelle di controllare l'equilibrio e coordinare il movimento di una persona collaborando con quell'importante parte dell'orecchio interno che viene definito labirinto. Questa porzione dell'orecchio non è deputata a svolgere funzioni uditive bensì a quelle di controllo dell'equilibrio. Tutte le informazioni che arrivano dal labirinto vengono rielaborate a livello di cervelletto e fanno sì che una persona riesca a rimanere in piedi riesca a trovare equilibrio anche dopo una capovolta. Invece ci sono stati degli studi svolti soprattutto presso un College of Medicine di New York, studi che hanno utilizzato delle ressonanze magnetiche avrebbero messo in evidenza che come il cervelletto abbia un ruolo cruciale, cioè importante anche nel regolare delle funzioni cognitive, di conoscenza, delle funzioni sociali soprattutto legate al piacere. Che studi sono stati fatti? Sono stati fatti degli studi su persone affette da dipendenza dalla droga e si è visto che l'area del cervelletto si accendeva, cioè risultava attiva nel momento in cui venivano mostrate a queste persone delle immagini collegate alla dipendenza stessa, per esempio una siringa. Queste porzioni di cervelletto hanno iniziato a rilasciare delle sostanze dei neurotrasmettitori, quali la dopamina, alla vista della siringa che per loro è segno e simbolo di piacere. Per cui negli ultimi tempi si sta veramente rivalutando la funzione di questo piccolo organo posto al di sotto dell'encefalo. Per oggi io mi fermerei qui e vi darei l'appuntamento alla prossima lezione in cui affronteremo il discorso legato al midollo spinale. Grazie per l'attenzione e a ricentirci a prestissimo.